E benvenuti ragazzi in questo nuovo video, io sono DeggazzeiGamer e oggi siamo in un video molto particolare rispetto al solito perché... beh... siamo su un quiz per scoprire quale mob 6. Quindi iniziamo subito con la prima domanda, la mia età è già dalla prima, devo tagliare. Ok, rieccoci con la seconda domanda, qual è il tuo colore preferito? Blu. Prossima domanda. Allora, come combatti? Aspetta a margine, sott'acqua con rifornimenti d'aria, mano, arco bombe. Va, sono più un tipo da bombe. Qual è la tua forza? Te le trasporto? Può trattenere il respiro a lungo, schierines, non so che cosa vorrebbe dire, forse l'hanno tradotto male. nessuna pelle spessa. Ma... ma... mettiamo... io so teletrasportarmi. Lo so. Allora, qual è la tua debolezza? Essere dimenticato, nuoto, essere osservati, essere da solo, nessuna. Essere da solo, molto probabilmente. Se avvessi un superpotere, quale sarebbe? Potenza dell'acqua, potenza del volo, potenza della velocità, potenza dell'oscurità, potenza del fuoco. O a... o velocità o acqua, ma secondo me è oscurità. No, volevo dire velocità o oscurità, ma mi piace di più l'oscurità. Allora, quale di queste materie è la tua preferita? Ma... Allora... Mo... Allora, FluxyGamer, se vede il mio video, dislike, cioè tutto, perché lui, in caso non lo sapesse, odia la matematica. Cioè, ma non è che lui la odia, e che non è capace, solo che non lo vuole ammettere. Vabbè, comunque continuiamo con la prossima domanda. Allora, che mob di Minecraft sono? Qual è il tuo elemento? Aria, terra, acqua, nessuna, fuoco. Mmm... Tra queste... o aria o terra? Ma mi piace di più. Aria. Oh, fammi cliccare. Che domanda siamo? 8 su 12, credo che faremo più tentativi per vedere con le altre opzioni che avrei scelto cosa sarebbe uscito. Quali di questi alimenti ti piace di più? Ehm... Frappè, manzo, speziato, pollo. Mi piacciono tutti, però, di più il pollo. Quale di questi è il tuo... Quale di questi è il tuo altro colore preferito? Giallo, tutta la vita giallo. Quale di questi animali ti piace di più? Quelli domestici come pecore, cani e gatti, le pecore sono domestiche? Eh? Volare come uccelli e pipistrelli, al massimo come uccelli perché un pipistrello non mi vedo. Quelli marini, proprio da scartare, manco la finisco. Creature immaginarie come centauri e draghi, al massimo un drago, un centauro, beh, diciamo che non è molto bello. Insetti come coccinelle e tartarughe, xd, scherza. Credo quelli volanti, ma anche quelli domestici mi piacciono. Allora, domanda finale. Quale mob pensi che dovremmo lasciare fuori? Zombie, creeper, zombie, suini, fantasmi e scheletri. Allora, ho i fantasmi perché li odio, cioè mi stanno proprio sul casio. I creeper pure, perché ti vengono da dietro, esplodono, poi ti metti a... Mmm... Beh, per... Per... Oh, perché sono creeper, basta. Poi, i pigmen, no, perché sono pacifici, cioè, finché non li attacchi tu... Cioè, loro non ti attaccano, cioè... Cioè, i mob, i mob sono semplicemente te, proverdi, e gli scheletri sono semplicemente fastidiosi. Però quello che toglierei è, ovviamente, cioè, i fantasmi, no, danno troppo fastidio. Vediamo che mob sono. Allora, il tuo profilo è... Per 33% sei un Enderman. Beh, cioè, per essere alto un metro e una banana, un Enderman non mi ci vedo. Il 25% sei un calamaro. Ho sempre sognato di essere un calamaro, ragazzi. Per il 17% sei una Mushroom. 17% sei un Creeper. 8% sei uno Scheletro. Allora, leggiamo un attimo le definizioni. Quindi io di regola sarei un Enderman. Di solito sei rara e intelligente, ma nessuno fa casino con te. Per questo motivo non sei sicuro se piaci o no. Le persone tendono a starti lontano. Non ti preoccupare, non è perché non piaci a loro, semplicemente non sanno molto di te. No, questa no. La gente ama stare con te, ma pensa che tu sia inutile in determinate situazioni. Tuttavia sei unico, rimani così. No. Boom, l'hai sentito? Sei tranquillo e gentile. Ma se qualcuno si mette dalla tua parte cattiva, devono guardare. Però sei artistico e prenderai tutto ciò che la vita ti dà e renderlo migliore. Ma anche no. Allora, tra tutti questi, quali che mi assomigliano di più sono o l'Enderman, o la Mushroom. Ma io direi, si può fare un altro giro? Così torno indietro le domande? Torno indietro, torno indietro. Sei, cinque, quattro. Questa è la numero tre, due, uno. Direi di farci un altro round veloce e di vedere se è proprio così o no. Cioè, perché se io metto a caldo, voglio vedere se mi escono gli stessi o è vero. No, la bomba l'avevo già messo. Quindi metto bollo sott'acqua a caso. Nessuna a caso, proprio. Se escono diversi, vuol dire che sto... Che questo quiz è fatto bene. Ho cliccato io. Potenza a caso, potenza a velocità. Siamo alla domanda numero sette. Mettiamo storia. Terra. Pollo. No, l'ho messo prima. Vabbè, che fa? Arancia. L'arancia da oggi è un colore. A caso. Ultima domanda. Proviamo a togliere il creeper. Vediamo. Tu sei. Raga, ma... Ma... Ah no, è cambiato, è cambiato, è cambiato. Allora, io sono un enderman. Cioè, mi esce sempre enderman. 33% sono anche uno scheletro, facendo a caso. 17% sono un creeper. 8% un muschrom. E 8% sono un calamaro. Cioè, in pratica, dalla mia personalità, cioè, si è capito che... Questi quattro mob sono... Cioè, quelli più... O cinque, non mi ricordo quanto che ero. Sono quelli... A cui... Cioè, che mi si addicono. Il primo è l'enderman, perché mi è capitato due volte 33%. Lo scheletro il primo è 8%, ora è 33%. Creeper... Credo che sia rimasto sempre 17%, 18% via lì. Il calamaro si è abbassato, il muschrom si è abbassato, però... Cioè, sono sempre gli stessi mob. Beh... Vabbè, il video ha raggiunto i 9 minuti, quindi direi che... Per questo video è tutto, ci potremo vedere anche in un prossimo video. Questo ricordo... Cioè, questi ricordo che usciranno tutti oggi, ma li ho registrati ieri. Perché... Ehm... Mi scuso ancora, se... Non so parlare... Per... Se... Per... Oh, stavolta ce la devo fare. Perché? Ehm... Venerdì, sabato e domenica non ho postato video. Cioè... Ehm... Per vari problemi. Quindi, direi che per questo video è tutto, l'ho già detto, quindi non perdo tempo. Ciao!